Devo farla io la citazione firme? Ah, gioco inverso, indovinate i tuoi turni Un cavaliere è votato al coraggio Il suo cuore conosce solo l'avventura La sua spada difende gli inermi Ah, sarà tipo... Tipo... Proviamo Rag, proviamo Tipo Robin Hood, può essere? Robin Hood Probabilmente avrei preso la fan Fossi stato al turnio Però proviamo Rag con il nuovo patch Dragon Art Ah, non l'abbiamo visto Abbiamo visto Dragon Trainer Se hai una citazione lilla, falla Ci devo pensare, adesso arriva, dai Ok, dai, ce l'ho, aspetta Dai Come... Oddio, però non vorrei che sia uno spoiler Eh Devo stare attento No, aspetta, se la dico così è uno spoiler Devo dirlo in un certo modo che non sia uno spoiler Allora Ok I genitori non dovrebbero mai vedere morire i propri figli Quindi ora vai Ok Ecco, prendiamo la mummia o il draghetto? Ragazzi, dovrebbe essere un po' più forte Beh, questo Diego vuole una sigaretta Sto cercando di corrompermi con una sigaretta E sicuramente ha il draggino A meno che troviamo doppia mummia Ed è E In quel caso si può prendere Forse mummia è un po' meglio Se trovo la montra mummia non li vedo Quando loro sono sul bus Sul August Interstellar Madonna, F90 le sa tutte Dio Tutte le sa Sì, sì, sì Dai, dai, dobbiamo Dobbiamo spiegare lui, allora Vuole un pacchetto Allora, invece no Mi interessava che hanno scritto Ah, no, abbiamo detto Joe Black Invece non è Joe Black Quella che hai detto tu Intanto abbiamo una sub Grazie Cittazione Minchia un carabaggio Che? Che? Grazie Gisuggeri Ma non Non presenta la citazione Perché? Minchia un carabaggio Ah, sarà tipo Aldo Giovane Giacomo O Checco Zanone Forse Non lo so Turna, paga la bet Raga, ma prendere questo? Sottel Grazie mille per l'abbonamento Ah, la leggenda di Ald Al Ald Al 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 No, dai Prendelo So fight Come ragazzi La citazione era Ah, Marina Ah, hai messo 1-3 nella bet? 1-3 Devi fare Devi confermare il pronostico Allora Aspetta Vai, colpiamo lì E così un pezzo L'abbiamo ammassato E siamo contenti 1-3 Scegli il risultato? Sì Questo Vai Ok Ah, si dite questa Vai Sparala Ciao Elius Buonanotte Ci sono due Categorie di uomini Nel mondo Quelli che hanno Una pistola carica E chi scava Tu scavi Sì Qua comunque Hanno incominciato a scrivere Un sacco di citazioni Questo Eccolo L'ha trovata L'ha indovinata Il buono Il brutto Il cattivo Il grande Albertazzi Il grande Irreplessivo Albertazzi Sapevo che faccia Stanghe teatro Bellissimo Dobbiamo Vincere sto Flippazzo Ma mi sa che Già se riesco a ammassare questo È positivo Ah no C'è nel senso Mi becco quattro d'anima Due pezzi Cosa c'è? Vengono in mente Le scene Chiunque può essere un eroe Anche un uomo Che compie un gesto semplice Come mettere un giocato Sulle spalle di un bambino Per fargli capire Che il mondo non è finito Batman Sì Cioè il cavaliere oscuro Il ritorno Se non sbaglio Fuori dal letto Nessuno è perfetto Nessuna 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 Mietà A Marco non è di piazza A De Giovanni Giacoli Nel senso Mi è piaciuto Il film Però non mi ha fatto Il partito Cioè Però è cultura Sì Ormai è L'italiana Adriana Adi fatti I rocchi Un'altra 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 citazione Qua è un flippazzo Almeno il pareggio Please Questo Oddio Va bene Oddio Non riesco a leggere Ok il pareggio è fatto Vieni Tu studi Eh quindi in Italia Non serve un cazzo Questa è un'altra citazione Citazione everywhere Ezechiele 25 17 L'ha scritta tutta L'ha scritta No No Prendo solo la tazza No Più forte la tazza Tazza 5c Questo è un 4c Però era questo Momentaneo Tazza per sempre Una tazza per sempre Dì ancora cosa Ti sfido Che faceva Bravo Hai vinto un mappamondo Sì poi cosa fa Cosa Ezechiele 25 Non so La scritta Il cammino Del uomo Ti morato E minacciato Da ogni parte Dall'inipità Degli esseri egoisti E dalla tirannia Degli uomini malvagi L'eletto sia colui Che nel nome Della carità Della buona volontà Conduce i deboli Attraverso la valle Delle tenere Perché egli è in verità Il pastore Del suo patetto Il ricercatore Dei figli smarriti E la mia giustizia Calerà sopra di loro Con grandissima vendetta E curiosissimo sdegno Su coloro Che si pioveranno Ad ammorbare Ed infine A distruggere I miei E poi dopo Non c'è abbastanza Spazio Che doppiatrice Prossimo spot Comunque ragazzi Guarda quanti Quanti stanno scrivendo Eh no Ma infatti È stata una bella idea Dai dai Ah e comunque Ho lasciato completamente Andare poco Ma intanto Ne sono dimenticati tutti Ma Ma poi altra cosa Nel senso Sei perfetta per uno spot No? Come voce Ma mi sembra Dico Quindi è il momento giusto Per mandare Lo spot Se non ti abboni al canale Twist ti manda una pubblicità Allora raga Qua È un po' intricato Non so se prendere spawn Probabilmente si Shredder anche Non è male Spawn la prendo Rollo Ah intanto Scusate In questo luogo Ci sono tre tipi di persone Quelli di Di persone Quelli di sotto Quelli di sopra E quelli che cadono Dovrebbe essere Il buco No? Quello Su Netflix Non permettere a dire A nessuno di dirti Che non sai fare una cosa Famosissima Secondo me Qua che vede Le reazioni Le reazioni Per lo spot Sono contrastanti C'è chi dice che è poesia C'è chi invece dice Che avate minchiocchi Ah ok Su 2 1 Dai cazzo Ti sbagliati Quindi pari di contrastanti Su questa cosa Sullo spot Che abbiamo appena mandato Parire sullo spot No no dai Ho sbagliato Ammazza niente qua La vita è come una scatola Di cioccolatini Non sai mai Quello che Che ti trovi Tipo Non sai mai Quello che ti capita Eh Forest gum Sì Guarda che misere Sono troppi Abbasso la leva L'altro Leva Quella che è Mi viene anche in mente Il Il sound Oddio cos'è questo Non so Questo è bello Però devo fare buff Su questi qui Tutto vuole Un proiettile per sempre Mamma mia Il proiettile Vabbè fanno Matrix Oddio Se vuoi sparare Devi essere pronto Per ricevere un proiettile Prendo lui Tengo loro tre Le follie Di l'imperatore Che stanno dicendo Questo è forterrimo Vabbè sì La vita è bello Comprarlo adesso Ma se più che si scioglie Però adesso è una follia Secondo me Una settimana da Dio Oddio no E Jim Carrey Sicuro Sì 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 È una settimana da Dio Mangulo Panzone Questo è La vita delle ore Esatto Fa ridere Perché è panzone Prendo una patatina E me la mangio Questo non mi viene in mente Questo è Death Note Ah sì Eh sì Finisco la peperonata E scena Basta sti demoni Tutti hanno sti cazzo di demoni Non riusciamo a vincere un fight Una storia che qualcuno rovina con la verità Una bugia è solo una bella storia che qualcuno rovina con la verità Mamma mia Un proiettile per sempre Non lo so Non sappiamo veramente che tipo di persona siamo fino a poco prima della nostra morte Questo è il Joker Viene per riceverti Realizzerai ciò che sei Joker Ah no Joker riceva Joker era Il carattere No scopri veramente Chi è una persona Com'è una fatta una persona quando sta per morire Quindi si può dire che abbia conosciuto i tuoi amici meglio di Meglio di Sei stato pesato Sei stato misurato E quanto è vero Dio Sei stato trovato mancante Questo è forte di questo C'è il murlo più tre Per me la cipolla Questo lo sappiamo tutto E tutti è È certo Uovo Vuoi più forte Vuoi più forte di questo Non Pablo Pablo Pablo? Sì Lo vende un 7-8 per uovo? Sì di un cavaliero No Cioè in realtà è già un 8-8 questo Non guadagno stazzo facendo sto cambio Pedro Non Pablo Pedro Pedro è vero Pedro Bisogna trovare Il murlo c'è Però devo vendere tipo lui E lui Per lui Anche questo vendo Il murlo si può pigliare Però è tristissimo Idra Idra assolutamente Idra Arbok Idra OP C'è il murlo però è un po' triste Prendono questo 5-5 No Tazzo ok Allora Vendo questo Sponita Questo va via Tazza Vendo la tazza Posso vendere spawn per war leader Che è un murlo Visto che ho 5 tribe così Quindi un 5-5 Ma in realtà quindi perdo stats Secondo me il murlo Che Me È un po' me il murlo Metti la cera Togli la cera Ovviamente Karate kid Cazzo ci sta Tanto devo ti prendere Dove ti prendere questi qui Se no saltano E Dì Uno slot per il battle cry serve Però Idra e Draghet OP Infinitamente OP Wow Che colpa Ma anche se qua Lui ha fatto un colpaccio Vibere da mostro O morire da uomo per bene Oddio questa dove è che l'abbiamo sentita Eh La cattigliere L'ho già sentita Ma non mi ricordo dove Cosa sarebbe peggio Vivere da mostro O morire da uomo per bene Anche l'ho già sentita Per avere da mostro Non è Dr. Strange No Ah Shutter Island È vero È vero È vero È vero È speduto in mente anche a me Però Lì per lì Vado Vado su no Pikachu Mi sono auto risposto Vado su sì Perché comunque Ho una comp forte La domanda è Ci sta a tenere Tazza in mano Secondo me Sto giro sì Perché tu dopo sono al 5 Con fango che mi fa già scalare E Se trovo tipo la tripla Di spawn Ok Se no Tipo anche Bran Poi venimi fuori Secondo me Quanto qui si tiene in mano Sto turno Tiene in alto turno Si prova tripla Anche sì Più che altro Più forte di tazza Con quella spawn Cioè Siamo lì Però La terrei Non tutti coloro che si smarriscono Sono perduti Chi lo dice Non tutti coloro che si smarriscono Sono perduti Diffico Non so Naturalmente Naturalmente Ah no Naturalmente È scenario Era una carta di air Ah ok È bella Ieri è storia Domani è un mistero Oggi è un giuro Per questo si chiama presente Dai ragazzi Lo so Hanno fatto un dallo da cellulare Grazie Grazie Chi sia stato A scaricare A raggiungere il livello 10 Siamo a 43 Grazie Grazie mille Bisogna Bisogna modificare L'obiettivo Fa tutto da solo In automatico Sì sì È tanta roba Guarda questo ragazzi Mascote build Ma in che mondo viviamo? Viviamo in un mondo Dove la mascot build È meta Oddio raga Non lo so Cioè è troppo difficile Sono Cos'è? Cioè questa è bellissima Se non sapete questa Non veritate di vivere Eh Certo Vivo la mia vita Un quarto di miglio alla volta Non mi importa di nient'altro In quei 10 secondi Sono libero Ah di non merito di vivere Forse non merito di vivere Oddio Qua la prendiamo Fast and Furious Ok Oh my gosh Allora prima eravamo Contro Omo Che aveva La gran spazzatura Allora prima faccio questo Ah intanto Snorlax Così Giusto per Giusto per Stiamo facendo anche bingo In un frattempo Trash Trash Omega Trash Omega Trash Allora vediamo un po' Stop Così Cioè per Sembra il pezzo migliore Mi piace l'odore del napalm Al mattino Ma che film sono Famosa questa Nell'odore del napalm Al mattino C'è un luogo Un momento Per la mia cosa Questo è il professor Rock Ma non ora Questo è il grande professor Rock Sto pensando Se ha senso Prendere sta minaccia Sto attaccarla sulla bombia Per dare più 3 più 1 Vendendo i due junk Poi altro Quello ce l'ha in alla coppia Grazie Abbiamo un altro download Grazie mille ragazzi Grazie Veramente Un altro ancora Siete dei grandi Grazie mille Ok Argus I like Argus Vinciamo noi Grace Ah questo lo so Bellissimo Armageddon Ah non l'ho visto Armageddon Ah cazzo Mi sono un attimo distratto E ho mangiato il buff su Hydra Devo metterla comunque prima Ieri è storia Domani Il mistero Ma oggi è un buono Per questo si chiama presente Questa dov'è Per forza Dai qualcosa col tempo Ehm Ieri è storia Domani è mistero Ma oggi è un buono Per questo si chiama presente Oista venduta Confu Panda Confu Panda 2 È vero È vero è vero è vero È Kung Fu Panda Lo dice Lo dice la tartaruga Ah vedi È vero Il mag ce l'ho È ancora più forte di questo È gigante Aspetta Sì Facciamo citazioni anche di canzoni Ah adesso dai Ancora alti No per la prossima volta Troppa carne sul fuoco Metti Se la vuoi proprio mettere Dai vi aiuto Sigla Però qui Già che siamo su Fib Ti spieghi tutto il content Hai ragione Va bene niente Non lo dico Io terei questo Metto questo qua Questo qua Tipo Cioè devo separare Che già separati da Bran Non va bene così Mi chiami il presidente Ma signore È lei il presidente Bene Allora so già tutto Forse è una persona Questa è di Simpsons Di Simpsons No forse Signor Barnes con Smithers No no Non mi ricordo se è Simpsons C'è uno di quei cartoni Ah Eri che è morti Può essere No non è Eri che è morti Scary movie 3 Scary movie Quindi è scary movie Ah io avere un sogno Un sogno avere un sogno Qual è? Sempre è scary movie L'uno Mi sembra È il rapper Lo dice Comunque Ragen Sto meta è più forte Ma questo era abbastanza ovvio Non so se sia più forte Di Raffam Comunque Oddio Mi è andata bene Che ho trovato fango qua Scary movie 3 Ehm Prendevano per il culo Sign Quello degli alieni Prendimente pisciavano dal dito Pisciavano dal dito? Sì Mamma mia Parole dure Parole dure Di un uomo davvero strano Simpsons Va beh Wow Sto culo lo salva Se non era morto Un culo providenziale Che disera Non può sentirti Ha le orecchie piene di garza Si sta Ah Attenzione Bait questo Secondo me Stai riprendendo un altro brano Però Bait anche il secondo brano Probabilmente Bohana significa famiglia Famiglia significa che Persona viene abbandonata Ho dimenticato Ho dimenticato Sono scatenati eh Il mio omer non è un comunista Sarà pure un bugiardo Un maiale Un idiota Un comunista Ma di sicuro che non è una porno star Allora Dare Argus a Hydra Io ho comprato Argus Però C'è un problema Dare Argus a Hydra Ovvero Che sono molto Più vulnerabile Ai cleave Però C'ho anche il pro invece Che poi posso pomparla Col 2-3 Che pompa i taunt Quindi non so Se voglio dare taunt a tutto Probabilmente Sì Probabilmente ci sta Dare taunt a tutto Comunque Faccio tipo così Perché se trovo Il 2-3 Che pompa tutti È una figata È una figata I am the one Who Knocks The door Breaking bread Questa è easy Adesso ve ne faccio una io Questa l'ho vista poco tempo fa In un video su youtube Che è riguista la scena Allora Aspetta La devo un attimo Pensare Pensare bene Così non mi blocco Ho trovato un modo Per non farti Per farti parlare in chat Anche se stai Stai giocando Sì a raghe È abbastanza Circo E allora Hanno paura Hanno paura Di noi Ci temono Sì ci temono Perché abbiamo Abbiamo la licenza Di uccidere Abbiamo il potere Di ucciderli No Questo non è il potere Il potere È quando hai La possibilità Hai la possibilità Di uccidere Hai tutte le ragioni Per farlo Ma alla fine Non lo fai Vediamo un po' Più o meno Vediamo un po' Gli imperatori Avevano questo potere Wolf of Wall Street No Non l'ho indovinata È Schindlerlist Ah wow Schindlerlist Bravo Bravi La D è muta Lo so Django Easy Secondo me non ci sta andare a 6 Luca ha giurato A un giorno in pretura Buongiollo Buongiollo Al pubblico maschile E al pubblico femminile Bellissimo Oh Allora andiamo avanti Con i Pokémon Come siete messi ragazzi Forse l'ho messo Split out Tanto questi erano già Abbastanza Rossi Comunque Secondo me Il gioco sembra Si sia semplificato Senza le spell Però Sembra anche Che sia meno Hyrule E più la solidità Il che è positivo Secondo me Vediamo un po' F90 Questo è super easy E stai aspettando La Municipale Fuolemute Sai dove Speri ti porterà Non può essere mai sicura Non può essere mai sicura Questo è Inception Ah ok Inception Peovic grazie Ha scaricato Raid Siamo a 46 Dai che gli facciamo 50 oggi Dai dai ragazzi Su Doviamo arrivare a 75 Entro mercoledì Se ne facciamo 50 oggi Siamo Ci stiamo Ci stiamo Quella che hai detto I visi I visi fanno le multe Ah beh Quella però La Municipale Fa le multe Sì Devo riuscire a trovare Un modulo Non sono ancora riuscito A trovare il modulo Da dare a Mummia Però sono comunque Fortissimo Più che altro Perché ho trovato Brane Fang Più che per Little Power di Raghe Però È bello giocare Con i nove patch Perché la gente Non sa dove Metter le mani Quindi si gioca Solido Si ranka meglio Citazione Scogliattolo Non lo so Mi spiegate Shatter Island L'ho visto ieri Questo sicuramente Sono forte Per alcuni Coppia di Draghetto No E poi non credo che Sia molto facile Oh sono la tripla Di mascotte Discover a 6 Let's go Io sono io E voi non siete Un cazzo Il marchese del grillo Dovrei vendere forse Un fango Tasse Tasse Ha scritto questa? Sì A fuori di tasse Il popolo di Nottingham Ogni città Ah che guai Ma quella Metti il pocherone Grazie mille Per l'abbonamento Prime Grazie Grazie man Grazie mille Se hai una citazione D'avanzare Prego Cercheremo di rispondere Allora io venderei Branne No forse Oddio E che cogliere Non so quanto sposti Però sposto sicuramente Più di branne Voglio sto drago 5 euro di carne 5 euro Due canne Sempre lui Allongi Dignitosamente Branne Faccio così Dignitosamente Branne È vero è vero Che tipo Quello ragazzi Mamma mia Ah non è Allongi Boh Allora Perché ero sotto Effetto di alcol Estrificacente Forse perché Sotto Ah ok Oh poi Amarga Don È sgravo Mi ha anche Shottato il miglior pezzo Dovete chiamarmi Signor Magari Anche qua Mi ha colpito il miglior pezzo Comunque È releone Ah però È andata bene Questa è venuta fuori già Mosciolo Selvatico Ed era Perdo però Fuck Pichissimo Forse Serve selfless Come sempre Magadon Oh selfless c'è Top Quindi Devo piazzare Dei bumpers Che poi in realtà Sì Selfless Dovrebbe l'istra In realtà Basta proteggere questo Quindi Stats Le stats Stats Sono importanti Però Rollerei Roll Cool Cool no Spore Roll Ok Questa roba forte Quindi Queste rive greche Come sono? Come sono? Sono greche È un film italiano Sicuro Però Non mi viene Cioè Mi viene in mente Tipo Mi vengo a questo Vendo Vendo i due branchi Ho di sport Faccio questo Ciao Buonasera Allora La vita umana è come un pendolo Che oscilla Incessantemente Tra il dolore e la noia Verdone Oddio Ah sì È vero È vero Sono greche Beh Beh La verdone Sono tantissime citazioni Che potremmo tirare fuori Citazione Questa roba forte Questa roba forte Che è una bella citazione Mi sono Strozzato Ginger Però mi sono potenziato Sono da 5% Sì Era verdone Quella delle olive Stray Pessimo questo Pessimo anche questo Cazzo Si scioglie Sa che perdo Settimana da dio Sì Ah è quello Ah è vero Patta cazzo Qua dovevo vincere Allora Questa qua Quel giorno l'umanità Ricordò il terrore Di essere Controllato da loro L'umiliazione L'umiliazione Di vivere Con un seringaggio È bellissimo Domani C'è la puntata Però niente Domani c'è la puntata Se un giorno Togliessero Tutta la pornografia Da internet Rimarrebbero Solo un sito Chiamato Ridateci i porni Allora vediamo un po' Volevo scrivere La situazione del giornalista Ma non ho tutta la voglia Di cercarlo Chi? Betello Associazione maschiosa Nel caso No Casomai non dovesse rivedervi Buon pomeriggio Buonasera E buonanotte Casomai non ci rivedessimo Non so cosa fare Perché qua La compra è veramente bella Sono più grosso di lui Trumascio Sì Va da una pompatina a questo Prendo questo Ma non è Finché non trovo Settile per i servizi Non è worth Ha una aura potentissima Junior Junior Adesso gaul Quindi devo vendere spora Buonasera Edo Nascella sì Nascella no Non ho presente però Paino O paino Le gambe delle donne Scusate Ho lasciato Il porto Ma indietro Devo togliere adesso Quindi spora Ne strago un po' eh Tutti in una mandata Marowak A meno che non gli appiazzi uno davanti Che si becca il buff Questo per prendere la maga Non si può provare Dovrei vendere due spore E fare Bran e Bran Murdon Per me ci sta Saraleggen Non ti muovere Dario La prassi intanto E Estraggo anche Questo non posso perché lui ha Rantolo Ex Ex Ok Mex non è forte Allora Allora Prossimo Pokémon Ah Questo muro Questo Prine Non ha preso scudo Però ha preso comunque veleno Questo è importante Chiamato come suo zio Per portare avanti Il suo spirito Io Questo l'ho messo qua Questo qua Questo qua Questo qua Oddio C'è un flipazzo Oddio Anche questa Lo vuoi sapere come mi sono fatto Queste cicatrici Questo è Eh Te lo dico Sì Oddio Il cavallero oscuro Esatto Dai Un'altra Un'altra Che facciamo noi Possiamo Allora Vediamo un po' Niente di buono Accade Dopo le due di notte Niente di buono Dai Dio Boh Ho perso mi sa il flip qua Potrebbe andare peggio Potrebbe piovere Dai anche questa No Invece non ho perso Ho vitto Piange No Pareggiato Merda Guida galattica Brattacus Sto fischio Oddio Allora Si prende questa Per tipare self Nadina Madonna che partire Siamo al torno 18 Regola numero 3 Mi fa le putze Viaggi in fondo al branco Non so Mi viene in mente Nessuna citazione In questo momento Oddio Ci penso Vendere questo Per Max Mi piace Per Nadina Più forte Nadina Di questo Sì Ardea chiede Hai mai visto Dei human Senti No Comunque Non ho interesse A guardarlo Sette Questo va via Quindi questo Selfless Si dice Leviosa Non Leviosa Harry Potter Sono salito Sono salito sulla cattedra Per ricordare Questo dovrebbe essere Carpe diem Carpe diem Capitano O mio capitano Sì Che non è Si chiama Carpe diem Si chiama Dead point society Cioè Il nostro Sì Noi in italiano Non è All'attimo Fuggente Cazzo Gli ho cacciato Delle Delle mossa Sto qua Che se le ricorda Primo posto Yes Grazie Primo posto Grazie Allora Bravo Dai ancora noi siamo scesi Dalla top 4 Che bello Che non ci sono più Sto cazzo di spelle I roll Poi magari sto sculando Io adesso Sicuramente mi sta andando bene Qua ho trovato i carry